Giovedì 7 settembre, terza edizione del nostro telegiornale La Cronaca, come sempre in apertura. È morto il marocchino di 34 anni accoltellato alla gola nella notte da un connazionale in via di Nanni a Torino. Cambia dunque l'accusa nei confronti del quarantenne connazionale della vittima, arrestato in via a Monginevro poco dopo l'aggressione. Secondo le testimonianze raccolte dagli agenti della squadra mobile del commissariato di San Paolo e delle volanti, i due avrebbero avuto un diverbio relativo a pena 5 Euro. Il aggredito era disarmato. Ubriaco invece è fuggito all'alte e tentato di speronare la gazzella dei carabinieri. Un ragazzo di 22 anni, residente a Rivarolo, è stato arrestato dai militari del nucleo radiomobile di Ivrea per resistenza pubblico ufficiale. A bordo di una Peugeot 208 nella notte ha tentato di sfuggire i carabinieri, che dopo un lungo inseguimento ad alta velocità per le vie del centro di Rivarolo sono riusciti a bloccarlo. Il 22enne era ubriaco e si è scagliato contro i militari cercando di colpirli con calci e pugni. Processato per direttissima Ivrea è stato condannato a otto mesi. Il Tribunale ne ha disposto la sospensione della patente per un anno e otto mesi. Provinciale 40 chiusa per due ore con pesanti conseguenze per il traffico oggi fra San Giorgio e San Giusto nel primo pomeriggio. Un pesante mezzo che procedeva verso San Giusto è finito parzialmente nel fosso. Ci sono valute un paio d'ore per riportare il mezzo in carreggiata. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Torino e i carabinieri. Sono poi stati identificati e arrestati gli aggressori del senatore Alberto Irola. Si tratta di due cittadini di origine dominicane arrestati dalla Digos grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza del ristorante La Bottega del tifoso di Via Cremona, a pochi passi dalla abitazione del parlamentare. Intanto a Irola è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo di ricomporre la frattura alla mandibola. Lasciamo per un attimo la cronaca. Ci ritorneremo perché è stata presentata a Torino la 57 edizione della mostra della ceramica di Castellamonte. Fino al 24 settembre a Castellamonte torna l'appuntamento di arte e cultura con la mostra della ceramica, giunta quest'anno alla 57esima edizione. La chiave di lettura di quest'anno è Metamorfosi, direttamente ispirata ad Ovidio, e vuole mettere al centro gli artisti locali e la materia prima, cioè la terra rossa, vera e propria eccellenza di Castellamonte, come ci spiega il curatore dell'edizione 2017, il professor Giuseppe Bertero. Raccontiamo le trasformazioni che da sempre sono avvenute con la modellazione dell'argilla di Castellamonte in particolare, ma in genere delle argille di tutto il mondo. Metamorfosi, soprattutto riferita quest'anno alla stufa, che parte da quella molto classica, antica, addirittura, dell'inizio ottocento, la Franklin, per intenderci, il caminetto Franklin, alla stufa più moderna, la stufa Stack, che solo da poco tempo ha avuto questo riconoscimento europeo del compasso d'oro. Pasquale Mazza è il nuovo sindaco di Castellamonte da pochi mesi, con grande entusiasmo scommette sulla 57esima edizione della mostra della ceramica. Castellamonte può tornare ad essere un nome importante per la ceramica e l'arte e l'artigianato in Italia, ma anche in Europa? Certo, è una delle maggiori scommesse che abbiamo fatto durante le elezioni, durante la campagna elettorale e vogliamo mantenere questa promessa. Noi stiamo lavorando e oggi se ne è visto un pezzo, sabato in Piazza Castello ne abbiamo visto un altro pezzo. Noi stiamo lavorando affinché la città si risvegli dal torpore nel quale era caduta. dal punto di vista, da tutti gli altri punti di vista, ma principalmente dal punto di vista dell'arte, della cultura, della ceramica. E quindi l'organizzazione di questa manifestazione. Noi due mesi fa non avevamo nulla. Oggi siamo partiti e il 9 inauguriamo una mostra ricca di eventi. e soprattutto piena, cioè due settimane, tre fine settimana pieni, pieni di eventi collaterali e una mostra aperta tutti i giorni, cioè un'offerta anche leggermente diversa rispetto a quelli che erano i canoni precedenti. Io ritengo che i numeri ci daranno ragione. Torniamo alla cronaca. I carabinieri hanno chiuso per 15 giorni il Cresibar di Casella in via Madre Teresa di Calcutta. Durante i numerosi sopraluoghi effettuati da aprile a settembre, i militari hanno rilevato che il locale era ad alta pericolosità sociale. La maggior parte dei clienti, con a carico numerosi precedenti penali, sono stati ritenuti potenzialmente pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Il Comune di Volpiano scrive alla città metropolitana per la manutenzione del verde per garantire la sicurezza della viabilità nelle aree escluse dalla competenza comunale, chiedendo di effettuare i necessari interventi manutentivi sulle strade di competenza dell'ente che ha assorbito le funzioni della provincia di Torino. Oggetto della segnalazione è tutta l'area esterna, lo vedete, alla perimetrazione urbana, come ad esempio le circonvallazioni la SP40, via Brandizio e via Lombardore, Corso Europa, via Torino e via Ciriè. Poi ancora un gatto cui hanno sparato, questa volta è caduto assalto in frazione di Quornier, è stata una ragazza che passava di lì a notarlo, quando lo ha visto ha pensato che fosse stato investito da un'auto, il gatto era ferito alla bocca, dopo vari tentativi è riuscito a farla entrare in casa e ha chiesto l'aiuto delle volontarie dell'associazione I Gatti delle Vibrisse che l'hanno indirizzata dal dottor Luca Valletto di Forno. È stato il veterinario a scoprire che il gatto era stato sparato con una carabina. La mandibola è praticamente distrutta, qui vedete la radiografia e il tessuto circostante già in necrosi. È stato necessario un intervento chirurgico per cercare di rimediare, ma le sue condizioni sono critiche, non si sa se ce la farà. L'ennesimo caso, in poche settimane, episodi vergognosi per cui probabilmente i responsabili non pagheranno mai. Ed è per questo che continuiamo a chiedere a chissà qualcosa di segnalarlo alle forze dell'ordine. A partire dal lunedì a Chivasso i riferiti degli esami di laboratorio, dei pap test e degli esami batteriologici saranno consegnati non più presso i centro prelievi di via Nino Costa, ma presso il distretto di via Po 11, al piano terreno, con uno sportello dedicato in sala d'attesa. Ampliato l'orario di consegna, che si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.00. Adesso andiamo a Bairo, al fine settimana appena trascorso, che ha visto la presenza di Pat Parelli, istruttore di equitazione di fama mondiale, che l'amministrazione comunale ha voluto omaggiare per aver scelto il Canavese per la sua prima tappa italiana del tour, che lo porterà in tutto il mondo. Un altro orgoglio per Bairo, un ospite mondiale qui. Sì, siamo veramente soddisfatti. Bairo è stato così, diciamo, artefici di tre giorni importanti, dei centri di equitazione della Rolanda al Quartelorsis, di Brassia Gianfranco, dove ho ospitato per la prima volta in Italia un grande, diciamo, psicologo del cavallo, Pat Parelli. Ho seguito con passione, diciamo, la sua lezione teorica che ha fatto in apertura la prima serata, martedì, e posso dire che è un grande comunicatore, è un modo diverso di trasmettere quello che deve essere a tutti gli istruttori di cavalli la passione per questo tipo di attività di equitazione. L'amministrazione ha voluto omaggiarlo e accoglierlo? Sì, abbiamo voluto, diciamo, omaggiarlo perché è la prima volta che veniva in Italia per questo tipo di attività e proprio abbiamo avuto anche, avremmo voluto in questi giorni porterlo portare a visitare il nostro territorio, non soltanto Bairo, ma i paesi millimetrofi per fargli vedere le nostre peculiarità, ma purtroppo già domani inizia un'altra attività a Berlino, diciamo, in un centro di equitazione di Berlino in Germania e non può fermarsi sul nostro territorio in più di tre giorni. Questo un po' mi spiace, ma spero che il prossimo anno di poter far replicare alla Rolanda questo tipo di manifestazione, magari ad un livello superiore per tutti i discenti che hanno partecipato a questa manifestazione. E' aperto ufficialmente le porte al pubblico Mondo Juve, situato nell'area compresa tra i comuni di Vinovo e Nichelino, al completamento previsto nel 2020 sarà dotato di una superficie lorda di pavimento di oltre 80.000 metri quadrati. Quello che si mostra oggi alla vista dei visitatori è il primo lotto del parco commerciale, ripartito in due strutture distinte. Elemento unificante è la galleria interna, con un centinaio di negozi al dettaglio che attraverso passaggi coperti crea un percorso continuo dall'ipermercato Bennett fino all'area ristorazione. L'opera sarà interamente completata nei prossimi anni. Grande attenzione è stata riservata agli aspetti di ecosostenibilità. Gli impianti tecnologici sono dotati di sistema di recupero di energia, di produzione di energia pulita e di controllo dell'energia consumata, per rendere il nuovo parco commerciale all'avanguardia anche sotto questo punto di vista. L'acqua piovana delle coperture, ad esempio, sarà recuperata, accumulata e utilizzata per l'irrigazione delle grandi superfici verdi. Importante è anche la ricaduta occupazionale sul territorio. Sono circa mille i posti di lavoro creati dal progetto, tra gli addetti alla realizzazione e al personale all'interno dell'area commerciale, con un potenziale bacino di utenza di oltre un milione di residenti nelle aree limitrofe. Lasciamo Mondo Juve e andiamo a Veneria, dove è stata inaugurata all'incubatore culturale la mostra di Mauro Beccaria. Volevo fare un viaggio con la V maiuscola e volevo andare in India, che non ne ho ancora mai stato, pur avendo viaggiato molto. Però il fattore di uscire da un ciclo di chemie, quindi essendo uno immunodepresso, poteva essere anche un attimo pericoloso, perché l'India non è proprio famosa per la polizia. Quindi il fattore di convincere i dottori, un tira e molla, è cominciato una specie di tira e molla, che io volevo fare il viaggio e le dottoresse mi dicono, no, lei può andare in montagna, al mare, sempre facendo un po' di attenzione all'igiene, queste cose. Io ho detto, no, ma io voglio fare un viaggio, un bel viaggio. L'assistente della dottoressa a un certo punto entra insieme e mi fa, ma non vorrà mica andare in India. E io sono rimasto lì sorpreso e ho detto, sì, voglio andare in India, no? Allora, calma, no, qui non si può, non si può, non si può, non è prudente, non va bene. Però, insisti una volta, insisti un'altra, alla fine del ciclo, bene o male, ho cominciato a ristabilirmi un po', a riprendere forze, gli esami andavano bene, sono andato anche a fare la vaccinazione per l'antitifica, non potevano farmi quella pastiglia, ma mi hanno fatto quella a siringa perché era un po' meno forte, perché quella pastiglia non avrei potuto farla, perché avrei potuto prendermi il tifo dal vaccino, quindi non andava bene. Comunque, a quel punto lì, il dottore mi ha dato permesso e ho detto, sentiamoci, mettiamoci sempre in contatto con via email, se dovesse succedere qualcosa, c'è comunque la possibilità di tornare a casa, spero, ecco. Per fortuna, ecco, non è successo niente, sono partito ed è stato un viaggio importante perché ho visto una povertà e una, come dire, queste persone che veramente, altro che quello che avevo affrontato io, era veramente in condizioni veramente dure, no? Anche a me, nonostante arrivavo da una cosa del genere, mi sentivo un gruppo al cuore per la povertà e per la, c'è la bellezza assoluta e la bellezza assoluta nell'India, no? Proprio, però mi sentivo a casa, dicevo, a casa sono in partito. Saranno 867 i concorrenti all'ottava edizione del Tour de Jean, la massacrante ultramaratona di 330 chilometri e 24 mila metri di dislivello positivo che si corre sulle alte vie della Valle d'Aosta. La partenza è prevista per domenica 10 settembre alle 10 da Kurmaier. Ed era l'ultima notizia di questa nostra edizione del TG, vi ricordo che nella nostra app potete trovare tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.